la tv on demand e si si mi copiano però mi copiano male cari amici molto molto male mi copiano vedete adesso in ottobre arriva anche in Italia Netflix che è una una web tv on demand cioè tu paghi mi pare 4, 5, 6 euro al mese e poi vedi quello che ti pare vedi quello che ti pare infatti è anche scritto qua la sfida il suo debutto la sfida dei palinsesti perché adesso tu quando guardi la tv puoi cambiare canale però non puoi guardare quello che ti pare perché magari quello che ti pare non c'è cambi 100 canali ma non trovi quello che c'è invece con con Netflix ti fanno vedere tutto quello che vuoi tu se c'è tutto quello che vuoi tu e il fatto è che io ho inaugurato la mia web tv on demand in anteprima nel 2007 cari amici ma la vera tv on demand non è come la intendono loro non è come la intendono loro si Netflix ha fatto un passo avanti ma la vera tv on demand non è come la intendono loro loro che cioè ti fanno vedere tutto quello che c'è già tutto quello che c'è già tu chiedi una cosa ma se quella cosa c'è già invece che la web tv di Serafino Massoni è sempre molto molto avanti perché Serafino Massoni ti fa vedere pure quello che non c'è cioè web tv on demand si hanno fatto un passo avanti poverino hanno fatto un passo avanti e ti fanno vedere tutte le cose che ci sono già ma la vera web tv on demand come la intendo io e come l'ho realizzata io consiste nel farti vedere quello che non c'è cioè a domanda risponde quando un mio telespettatore mi dice Serafino Massoni parlami del tale argomento che ancora non c'è io creo un video nuovo creo un video cioè una nuova trasmissione e il mio telespettatore si vede questa nuova trasmissione da lui richiesta tv on demand questa domanda cari amici il mio segreto il mio segreto anche il mio segreto non mai nessuno scoprirà ecco la mia tv on demand cari amici la mia web tv on demand per quanto gli altri possano cercare di raggiungermi non mi raggiungeranno mai non mi raggiungerai mai nessuno mi raggiungerai perché la web tv on demand come la intendo io e come deve essere logicamente intesa è quando un telespettatore dice dice alla web tv on demand io voglio vedere una cosa che ancora non c'è che ancora non c'è e allora la web tv on demand ti crea una nuova informazione capito ti crea una nuova informazione ad immagine e somiglianza della domanda del telespettatore cari amici per quanto me possano rincorrere non mi raggiungono mai cari amici sapete perché? ma perché io sono l'autore di questa opera che ora non ha la sua bella traduzione in lingua inglese tra tutto il mondo c'è anche la versione in lingua italiana ok cari amici tanti cari saluti da Serafino Massoni